La situazione è di vera e propria emergenza. I numeri di persone in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare sono in continuo aumento. L'arte di Imperia ha appena approvato la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi situati nel comune di Imperia, dopo un bando di concorso pubblico il 19 gennaio di due anni fa. Nella graduatoria ci sono i nomi di 240 famiglie. Sono stranieri, ma tantissime sono anche le famiglie italiane in cerca di una sistemazione. Una goccia nel mare, se si pensa che il patrimonio ligure di alloggi a disposizione per l'edilizia residenziale pubblica, è costituito da 20.000 appartamenti e che le richieste sono in crescita esponenziale. Tantissimi gli imperiesi e non solo che sono sotto sfratto senza soluzioni alternative. La crisi economica ha messo tante famiglie in ginocchio, il reddito si è contratto e in molti non sono più stati in grado di pagare l'affitto. Vengono inviati ai servizi sociali dove aspettano diversi mesi per avere una sistemazione. Grazie a tutti.